Buongiorno a tutti, sono Marco Dallavalle, consulente alle vendite della concessionaria BMW Tullopezzo e oggi, insieme a Giovanni Aquino, risponderemo alle vostre domande fatte sui social. Partiamo con la prima domanda. Il signor Giacomo ci chiede la differenza tra un'auto ibrida, ibrido plug-in e full electric. Le batterie delle vetture ibride hanno una capacità ridotta, a differenza delle vetture plug-in, che permettono di percorrere 40-50 km in puro motore elettrico. Le vetture elettriche, invece, avendo un pacco batterie molto più generoso, permettono di percorrere centinaia di km a emissioni zero. Allora Giovanni, la signora Anna invece ci chiede se le auto batterie presentano prestazioni inferiori rispetto alle auto termiche. Assolutamente no, le combinazioni tra motori termici e motori elettrici offrono potenza anche superiore rispetto alle vetture con normali motori a combustione. Ad esempio, la BMW X2 X-Drive 25E alle mie spalle offre una potenza complessiva di 220 CV ed uno scatto da 0 a 100 in meno di 7 secondi. Andiamo avanti con le domande. La signora Giulia desidera sapere i vantaggi fiscali acquistando una vettura a basse emissioni? Come vantaggi fiscali, Giulia, troviamo gli incentivi statali o regionali accumulabili, l'esenzione del bollo per diversi anni sulle vetture ibride o addirittura a vita sulle vetture elettriche. Bene Giovanni, invece il signor Andrea desidera sapere di più sui vantaggi di una vettura ibrida o elettrica nell'uso cittadino. La città è l'habitat naturale, infatti i vantaggi sono molteplici. Ad esempio, grazie alle continue soste e ripartenze attraverso il recupero di energia, le autonomie aumentano. Ulteriori vantaggi possono essere ad esempio entrare in zona traffico limitato, parcheggiare in maniera gratuita oppure l'esenzione dal blocco del traffico. Il signor Federico ci chiede invece come ricercare le colonine di ricarica più vicine. Attraverso la navigazione presente nell'infotainment della vostra vettura potete pianificare il vostro viaggio in totale relax. Il sistema di navigazione vi informerà infatti delle colonine di ricarica più vicine in base alla vostra posizione. Con questo breve video speriamo di aver risposto a tutte le vostre domande. Per ulteriori informazioni non esitate a scriverci nei commenti. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!